Quest'anno più che mai aspettiamo l'inizio del 2021 per ricominciare, sperando che il nuovo anno porti con sé nuove prospettive e un miglioramento tangibile per tutto il mondo. Il 2020 è stato veramente un anno di, diciamo, molto particolare. La pandemia ha causato danni di ogni genere a molti di noi e tutti abbiamo dovuto rivedere obiettivi e strategie per riuscire a stare a galla. L'inizio del nuovo anno è una bellissima occasione per rimettersi in gioco e progettare con entusiasmo un anno migliore e ricco di opportunità. Dimmi che obiettivi hai e ti dirò chi sei. Potrebbe sembrare una frase motivazionale, ma è molto molto di più. Sono infatti i nostri obiettivi che ci guidano, determinano le nostre azioni. Dalla chiarezza dei nostri obiettivi dipende in buona parte la qualità delle nostre relazioni, dei nostri successi, della nostra vita. Obiettivi troppo grandi o irraggiungibili creano inevitabilmente frustrazione e malessere. Obiettivi troppo semplici non ci permettono di crescere e di misurarci con la realtà. Avere uno scopo, un fine, un desiderio ci permette di tirare fuori il meglio di noi stessi. E tanto più chiaro è il nostro traguardo, tanto più intenso è il nostro impegno, tanto più senso alla nostra vita, al tempo a nostra disposizione. Quando insegui i tuoi sogni, il tempo che investi non è mai perso e anche se subisci qualche battuta d'arresto stai comunque vivendo pienamente la tua vita. Se non hai obiettivi o non sai dove stai andando, in genere sprechi il tuo tempo, tempo che non tornerà mai più. Se vuoi essere felice stabilisci degli obiettivi che governino i tuoi pensieri, liberino la tua energia ed ispirino le tue speranze. Buon anno a tutti!